Tempo di scambio di auguri natalizi anche per la scuola calcio Academy dell'Arset Labor Grottaglio, che ha riunito nella sala incontri del centro sportivo Il Monticello tutti i suoi iscritti delle categorie di riferimento, piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti. Allo scambio di auguri erano naturalmente presenti tutti i genitori dei piccoli calciatori e lo staff tecnico al completo, composto da Gaetano Pirone, Marco Pizzonia, Andrea Patronelli, Francesco Baldo e Mimmo Camassa. Sono intervenuti anche, in rappresentanza della società Arset Labor Grottaglie, il direttore generale Franco Fedele, il direttore sportivo Mimmo Ligorio, il responsabile del settore giovanile Piero Mero, nonché mister Marinelli, allenatore della prima squadra, il portiere Ivan Termite, il bomber Luigi Galeandro e Ciccio Pastano, Grottagliese Doc. I piccoli calciatori hanno ascoltato le parole dei propri istruttori e i consigli di mister Marinelli con la giusta verve che li contraddistingue. Un evento, quello di ieri sera, significativo, che evidenzia la considerazione e l'importanza che la società ripone nei settori giovanili scolastici. Grazie.